Sono lieto di consegnare alle ceramiste di Burgio il catalogo della mostra simbola all'interno della quale sono esposte delle opere delle nostre ceramiste che testimoniano l'importanza della loro presenza in un contesto internazionale e per questo io ringrazio la Presidente dell'Associazione Pandora Narita Fasano e Suris Dei Martinez, la direttrice del Museo dell'Arte Ceramica Contemporanea di Lavana per averci dato l'opportunità di avere presenti nella mostra le nostre ceramiste al tempo stesso di promuovere il Museo della Ceramica di Burgio. Vito Ferrantelli, nella qualità di socio onorario dell'Associazione Culturale Pandora ha consegnato ieri alle ceramiste di Burgio delle botteghe Arcuri e la Gioiosa il catalogo della mostra di ceramiche simbola le cui opere sono esposte presso il Museo della Ceramica Contemporanea di Lavana a Cuba nella quale sono presenti appunto anche opere delle ceramiste di Burgio. Ringrazio l'Associazione Pandora di avermi dato l'opportunità di esporre le mie ceramiche presso il Museo della Ceramica Lavana a Cuba. Siamo contenti che le nostre opere sono esposte nella mostra internazionale del Museo della Ceramica della Lavana a Cuba. La mostra simbola è certamente un evento culturale di carattere internazionale che si è svolto nell'Isola dei Caraibi, che è scaturito dal contatto favorito da Vito Ferrantelli tra la direttrice cubana del Museo della Ceramica Contemporanea di Lavana, Surisdai Martinez, e la presidente dell'Associazione Pandora Annarita Fasano di Cava dei Tirreni, della quale fanno parte circa 500 ceramiste provenienti da tutte le parti del mondo, dalla Corea del Sud all'Iran, dall'Argentina agli Stati Uniti, dal Brasile alle tante nazioni europee. Un centinaio di queste ceramiste si sono incontrate a Cuba, dove oltre alla mostra hanno realizzato dei workshop che hanno visto interagire le artigiane e artiste nella realizzazione di lavori che sono stati poi consegnati al locale museo. In questo momento voglio fare veramente un grande applauso a queste meravigliose donne. Nella settimana di eventi si è svolto, in un prestigioso palazzo di Lavana, un convegno dove Vito Ferrantelli, in rappresentanza ufficiale dell'Associazione Italiana delle Città della Ceramica, ha portato ai saluti del Presidente e del Sindaco di Faenza, Massimo Isola, e ha relazionato sulla ceramica siciliana e sul Museo della Ceramica di Burgio, sul quale, in goda alla relazione, è stato proiettato anche un video. Nei giorni della manifestazione a Cuba si sono svolti anche degli incontri istituzionali con la partecipazione di autorità cubane e anche con la visita dell'ambasciatore italiano a Cuba, Roberto Vellano. La direttrice cubana Martinez era stata poi a Burgio lo scorso anno, dove ha inaugurato, all'ingresso del paese, il Museo della Ceramica Amplenair, nel quale sono esposte centinaia di mattonelle che testimoniano la ricca produzione pavimentale delle antiche botteghe burgitane. Grazie. Grazie.